Sarà un fine settimana pieno di appuntamenti per i medici del territorio nisseno. Sabato prossimo, 25 febbraio, a partire dalle 8.30, l'Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta ospiterà un incontro dal titolo La Pillola, non solo contraccezione. Un corso che si rivolge soprattutto ai medici di famiglia, ginecologi, endocrinologi, dermatologi, ematologi e infettivologi. Un appuntamento dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta che rientra nel progetto Malattie Sessualmente Trasmissibili Sicilia-Malta del distretto Rotary 2110. Ad introdurre i lavori il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri di Caltanissetta, Giovanni Di Polito e il Presidente del Rotary Club di Caltanissetta, Fabio Tornatore, ma si prevede anche l'intervento dell'Assessore regionale alla salute Giovanna Volo e del Governatore del distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, Orazio Agro. Durante l'incontro saranno presentate le relazioni di numerosi esperti, tra i quali il nisseno Giuseppe Giannone, nonché Presidente della Commissione Distrettuale Rotariana Sicilia-Malta sulle malattie sessualmente trasmesse. Non mancheranno momenti dedicati al confronto con le persone presenti.